Ti prego un walk out per i boys delle bet Non me lo da Ma invece si Ma non ci sta Ma escono dopo i fuochi Ma è normale che dopo lo vedi Esce dopo il coso Mi avete trollato Oh e bet vinte E sotto chi mi hai dato Ehi Ehi E buono E' un pacco della madonna questo Gabriel Jesus è il mostro E si mette subito in squadra che è non scambiabile Trent è buono Ruben Dias subito sopra Ziyech pure Iden Fabian Ruiz e poi gli altri scambi e gli scarti